Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui anche oggi, questa volta non alle ore 13.30 ma alle ore 9.30. Perché? Perché oggi si gioca già alle ore 15, a mezzogiorno e poi a mezzogiorno e 45, ci saranno le due live sia sulla piattaforma Viola sia qui su Youtube dedicate ai vostri dubbi di formazione e allora come sempre in questi casi andiamo ad anticipare il video sulle due Top 11. Adesso andremo a vedere insieme i due campetti Top 11 underdog e Top 11 scommesse mentre tra una ventina di minuti circa sarà già disponibile la Top 11 certezze su Stadeo. Stadeo è un'app totalmente gratuita, trovate il link in descrizione, la scaricate, entrate nel club Il Profeta e lì oltre al progetto esperti di cui vi ho parlato ieri e che sta continuando a crescere anche grazie a voi, troverete sempre la Top 11 certezze di ogni giornata. Basta entrare nel club Il Profeta, vi aspettiamo. Detto questo, prima di passare ai nostri campetti se non l'avete ancora fatto mi raccomando, like al video, iscrivetevi qui sotto al canale che è sempre gratis e adesso andiamo a vedere la Top 11 degli underdog. Ed eccola qui, Top 11, underdog, ventesima giornata. Come vedrete ragazzi ho deciso di optare per una Top 11 underdog, chiamiamola più conservativa. Al di là di un paio di nomi sono tutti giocatori che comunque dovrebbero essere quasi sempre titolari nelle vostre rose. Invece, come vedremo tra poco, poi nella Top 11 delle scommesse ho cercato di spingere un po' di più e di andare a scovare anche qualche nome abbastanza improbabile. Top 11 underdog, 3-4-3, in porta, carne e secchi. Perché? Beh, ormai sembra aver scavalcato Musso nelle gerarchie di Gasperini. Il Frosinone è una squadra che sì, può creare dei problemi a livello difensivo all'Atalanta, ma proprio per questo motivo, carne e secchi è qui, non per un eventuale clean sheet, che poi per carità si arriva a tanto meglio, ma per una buona prestazione in ottica modificatore. Come vi ho spiegato nei giorni scorsi, io Atalanta-Frosinone la vedo da gol e da over. Carne e secchi può anche subire un gol, ma potrebbe essere sollecitato anche dagli attaccanti del Frosinone a rispondere presente e magari portare a casa un 6,5-7. Quindi, se volete delle scelte più per il clean sheet, guarderei altrove, banalmente un terracciano in Fiorentina-Udinese. Se invece volete spingere un po' di più per il modificatore, carne e secchi potrebbe essere una scelta giusta. Difesa a tre. Cambiasso, Biraghi, Pavard. Cambiasso, l'avevo consigliato anche la scorsa giornata, ma poi è arrivata la febbre all'ultimo minuto, e quindi questa volta ci riproviamo. Dovrebbe giocare contro il Sassuolo, è uno di quei difensori che ha la possibilità di portare bonus, più probabilmente leggero che pesante, ed è qui proprio per questo motivo. Così come Biraghi, Fiorentina-Udinese è qui non tanto per il voto, perché anche lui ha alternato prestazioni positive e prestazioni negative, ma è qui per i bonus, calci ai calci d'angolo, le punizioni, in qualsiasi momento può portare un bonus leggero, ma io sono convinto che da qui a fine anno almeno un altro, se non un paio di bonus pesanti, da lui potrebbero arrivare. Pavard, Monza-Inter, nome ancora molto sottovalutato negli scambi, ve ne ho parlato nei giorni scorsi, e quindi per questo motivo si può ancora considerare un underdog, ma a mio parere è uno di quei difensori che oggi è sottovalutato, ma potrebbe avere invece un rendimento molto più alto di quello di un underdog. Monza-Inter, Pavard, si può schierare. Centrocampo a quattro da destra a sinistra, Politano, è vero, come vi ho sempre detto il Politano d'inizio stagione era un classico esempio di overperform, non mi aspetto un girone di ritorno all'altezza dell'inizio del girone di andata di quest'anno, però in questa precisa partita Napoli-Salernitana mi aspetto un Napoli che farà almeno un paio di gol, e quindi Politano è qui per questo motivo. Ferguson-Cagliari-Bologna torna dalla squalifica, sarà lì sulla tre quarti, mancherà Zirkzee, e quindi lui avrà un ruolo ancora più importante in questo Bologna, e i suoi inserimenti potrebbero fare davvero la differenza. Tra le altre cose, qualora ci fosse un rigore senza Zirkzee, siamo così sicuri che andrà Orsolini dal dischetto? Abbiamo visto anche in Coppa Italia che è vero, Orsolini è un ottimo rigorista, ma Ferguson può dire altrettanto, quindi c'è anche quella possibilità. Chi sicuramente invece non batterà un rigore, speriamo, è Jack Buenaventura. Nell'ultima giornata un disastro totale per via delle rigore, però al di là di quelle rigore, proviamo un attimo a dimenticarcelo, ricordiamoci il Buenaventura calciatore e non rigorista, resta sicuramente uno dei nomi da bonus più probabili in Casa Viola. A centro campo sicuramente il più probabile, e quindi lo andiamo a schierare anche contro l'Udinese. E infine Charles de Getelare, non sappiamo ancora se sarà titolare o meno, sia da titolare, sia da subentrante, però contro il Frosinone io punterai forte sull'Atalanta perché mi aspetto almeno un paio di gol da parte della squadra di Gasperini. Contro un Frosinone che a livello difensivo sta facendo acqua da tutte le parti, de Getelare potrebbe approfittarne. Così come potrebbe approfittarne Scamacca, che è uno dei tre attaccanti che vi propongo qui, in quest'attop-undici degli underdog. Scamacca nelle ultime due è stato messo in panchina, è sempre stato subentrante, e anche per questo motivo mi aspetto un po' un rimescolamento delle carte da parte di Gasperini. Non mi meraviglierei, anzi me lo aspetto, titolare contro il Frosinone. E come detto poco fa, il Frosinone in questo momento potrebbe essere un'ottima vittima per un attaccante come Scamacca. Ingonge, Verona-Empoli, si parla tanto di Ingonge in ottica calciomercato, ma per ora è un calciatore del Verona e potrebbe sfruttare questa partita contro l'Empoli, squadra ampiamente alla portata di Ingonge e delle Verona, per mettersi in qualche modo in mostra, in vetrina. Poi vedremo dove andrà, però al di là di questo Ingonge è un giocatore che io andrei a schierare. E infine Ildiz, settimana scorsa, un paio di settimane fa, era stato proposto nella top 11 delle scommesse. Adesso direi che dopo le ultime prestazioni, sia in campionato sia in Coppa Italia, si merita una promozione nella top 11 degli underdog. Juventus-Sassuolo, la difesa del Sassuolo la conosciamo tutti, conosciamo tutti in particolare anche quei giocatori che potremmo entrare nel secondo tempo. Ildiz ha la qualità giusta e sufficiente per poter tornare al bonus anche in campionato, in questa ventesima giornata. Ma adesso ci andiamo a spostare nella top 11 scommesse. Ed eccola qui, top 11 scommesse, ventesima giornata. Come vi ho detto prima, qui ho spinto un bel po' su alcuni nomi altamente improbabili. Partiamo dalla porta. Verona-Empoli, Montipò, sempre 3-4-3. Il Verona è una squadra che contro l'Empoli può fare punti. L'Empoli a livello offensivo fin qui è stato davvero poca roba. E quindi da Montipò mi aspetto almeno una prestazione sufficiente. E perché no, magari anche un clean sheet. Difesa 3 da sinistra a destra. Martini è squarta, ormai non è più un caso. Partecipa a un sacco di azioni offensive in casa viola, soprattutto calci piazzati, ma non solo. Vederlo da qui alla fine ancora una, due, tre volte nel tabellino dei marcatori è tutt'altro che utopia. Calafiori non è qui per i bonus, poi se li farà tanto meglio, ma è qui soprattutto per il modificatore. Diciamo che dietro ai top top, quindi i Bremer, i Buongiorno, a livello di difensori centrali Calafiori rischia di candidarsi ad essere uno dei protagonisti di questo girono di ritorno. Oggi ve l'ho messo nelle scommesse, ma non mi meraviglierei tra qualche giornata di andarvelo a proporre, almeno negli underdog. È un calciatore affidabile, quest'anno partiva con il ruolo da terzino, ma poi dopo essere stato adattato a centrale ha fatto ancora meglio. È un nome importante, potrebbe anche diventarlo per la nostra nazionale, non so se già per l'europeo, ma sicuramente in vista del mondiale, se continua a crescere così si può candidare a un ruolo importante. Calafiori, nome che andrei a puntare soprattutto se lo avete svincolato a febbraio. Bellanova, Genoa-Tor. Ho parlato tante volte negativamente degli esterni del Torino quest'anno, dicendo che non riuscivano in qualche modo a fare la differenza. Beh, nelle ultime giornate finalmente è venuto fuori Bellanova. Ho rivisto finalmente il Bellanova di Cagliari, quindi contro il Genoa, se titolare, Bellanova può essere una bella scommessa. Centrocampo a quattro, da destra a sinistra. UEA, Juve Sassuolo. UEA ha avuto un girono di andata abbastanza travagliato, tanti problemi fisici, però se andiamo ad analizzare le partite che ha giocato non ha fatto così male. Probabilmente qualcuno aveva delle aspettative troppo alte su questo nome. Ma tutto sommato io mi aspettavo questo UEA. Mi aspetto un UEA sano nel girono di ritorno e un UEA che magari potrebbe portare due, tre assist e perché no, fare magari anche un gol. Miranciuk. Atalanta-Frosinone vale il discorso fatto per De Ketelar con l'aggiunta che qui abbiamo un giocatore che nelle ultime ha fatto molto bene. Ha fatto bene, può fare bene sia da titolare sia da subentrante e anche lui, come spiegato nel video di un paio di giorni fa, può diventare quel centrocampista jolly che non ti aspetti nel mercato degli svincolati, da prendere come quarto, quinto slot e da schierare nelle partite giuste. E poi c'è la grande scommessa di giornata. Mboulat, Verona Empoli. La squalifica di Lazovic gli regala almeno un paio di partite da titolare. Mboulat, a inizio stagione nel precampionato e anche nelle prime uscite non aveva fatto male. Poi anche lui ha avuto un sacco di problemi fisici che lo hanno rallentato molto nell'inserimento, negli schemi di questo Verona. Adesso è tornato e gradualmente può riprendersi quello che gli appartiene, il posto da titolare e perché no magari anche qualche bonus. E infine il Sharawi. Il fascino dell'ex Milan-Roma. Di Bala non so ancora se ci sarà. Sto registrando questo video venerdì sera. Probabilmente andrà in panchina, ma non si sa. Sicuramente non dovrebbe essere titolare. Tra lui e Belotti sembra essere lui il favorito per fare la spalla a Lukaku. La partita è tutt'altro che facile, però il Sharawi ha le qualità giuste per poter mettere in difficoltà la difesa rossonea. Attacco a tre da sinistra a destra. Isaksen, Lazio-Lecce. Castellanos infortunato. C'è lesione, non sarà della partita. Immobile potrebbe andare in panchina, ma probabilmente entrerà solamente nel secondo tempo. E allora mi aspetto un Felipe Anderson da falso 9. Uno Zaccani esterno-sinistra e un Isaksen esterno-destra. E Isaksen, con le sue qualità, ha tutto per mettere in difficoltà la retroguardia del Lecce. Jovic-Milan-Roma non sarà titolare. Siamo nelle scommesse. Però un Jovic da 20-25 minuti finali, se è quello visto a dicembre, potrebbe fare male a questa Roma. Soprattutto negli ultimi minuti, dove mi aspetto una Roma stanca, che probabilmente ha difeso per gran parte della partita, e potrebbe in qualche modo allentare il tasso di concentrazione lì dietro. E infine, Simeone, qualora oggi fosse titolare contro la Salernitana alle ore 15, è un nome che proverai a lanciare. Qualche giorno fa vi ho detto che ad oggi Simeone, rispetto a Raspladori e a tanti altri attaccanti, ha un ruolo minoritario, che mi fa dire che se non fa qualcosa da qui a fine gennaio, addirittura diventa anche un nome svincolabile. Però in questa precisa partita, un po' come Politano, se titolare, può essere un nome interessante da mettere. Qualora non dovesse partire titolare lui, e dovesse partire Raspladori, allora qua bisogna valutare caso per caso. E qui ovviamente arrivano le live di oggi, a mezzogiorno sulla piattaforma Viola, e a mezzogiorno ai 45, qui su YouTube. Ragazzi, queste erano le due top 11, underdog e scommesse, come sempre, come vi ho detto prima, tra ormai 15-20 minuti al massimo, sarà disponibile anche la top 11 certezze su Stadeo. Il link è in descrizione, lo troverete anche nel primo commento fissato in alto. Io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando like, mi raccomando iscrivetevi qui sotto al canale, che è sempre gratis, grazie mille. Noi ci vediamo tra poco in live, o qui o dall'altra parte, sulla piattaforma Viola. Grazie mille, ciao a tutti, e alla prossima. Ciao! Ciao!